A dire che il Molise Felix non esiste, questa volta ci ha pensato la Banca d'Italia. Nei primi sei mesi del 2017, scrivono da Corso Mazzini, sede della filiale per il Molise, il recupero dell'occupazione in atto dal 2014 si è arrestato. I dati della rilevazione sulle forze lavoro dell'Istat infatti indicano una riduzione dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'offerta di lavoro ha continuato a crescere sia in Italia sia nelle regioni del Mezzogiorno, mentre in Molise ha subito una contrazione. Questo il discorso nudo e crudo. Tradotto sul piano amministrativo, il dato offerto dalla Banca d'Italia non può essere scollegato da una valutazione di ordine politico che attiene a due ambiti, lavoro e attività produttive. Due settori che nella geografia istituzionale attengono ad altrettanti ambiti amministrativi al cui vertice siedono due assessori. O dovrebbero sedere due assessori, poiché il primo dei due, quello al lavoro, manca ormai dal gennaio 2016, ovvero da quando l'allora titolare Michele Petraroia rassegnò le proprie dimissioni. Da allora la delega è tornata nelle mani del presidente Frattura. Alle attività produttive, invece, siede Carlo Veneziale, assessore esterno in quota PD. A lui, di fatto, Frattura ha passato tutte le patate bollenti, ma nonostante la buona volontà di Veneziale, uno dei pochi a salvarsi dentro al Partito Democratico, i risultati sono scarsi o peggio, nulli. Delle crisi industriali in corso, nessuna è stata effettivamente risolta, compresa quella relativa al settore avicolo, comparto che vede ormai da anni le maestranze della GAM costantemente sedute sulla graticola e quando lasciano i carboni ardenti attaccati alla bombola d'ossigeno della Cassa Integrazione. Stessa cosa per la forza lavoro della ex ITR, o peggio che mai, per gli sventurati operai dello zuccherificio del Molise, la cui tenda allestita ai piedi dello stabilimento alla fine dell'estate 2016, idealmente non è stata mai smantellata. A queste persone, abituate a lavorare col dolce, l'unica cosa che è stata offerta è una prospettiva amara. Le solite favolette regionali, formazione, autoimpiego, incentivi senza né capo né coda, visti i tempi che corrono, in pratica nessuna risposta. Come nessuna risposta concreta è ancora venuta dalla tanto sbandierata area di crisi complessa, totem del quale si conosce poco o nulla, se non quanto rivelato grazie ad uno studio della CGL. I fondi a disposizione sono pochi, 15 milioni di derivazione nazionale e 21 sulla carta per ora di provenienza regionale, poco rispetto al fabbisogno stimabile, perlomeno del doppio. C'è quindi poco da stare allegri, soprattutto laddove l'assenza totale di programmazione fa venire le vertigini, quanto appressa pochismo e mancanza di idee. In Molise, come è accaduto nelle scorse ore, c'è chi è costretto a salire sui tetti e minacciare di lanciarsi nel vuoto pur di essere ascoltato. I palazzi della politica appaiono lontani e soprattutto sordi al grido di chi chiede pane e dignità.